Musica Chi si cela dietro questa maschera di ferro? Si tolgono la maschera ed è Franco Neri! Un applauso al grande Franco! Direttamente da Striscia della Notizia è qui con noi a Pimirolo! Grazie, bellissimo! Mi sono divertito tantissimo! Grazie a voi tutti! Un applauso a chi ha organizzato questa cosa perché è veramente bella!